Il carnevale è una cosa seria, diceva sempre il professor Alberto Berardi, e la carnevalesca non lo dimenticherà. Io personalmente non potrò che tenerlo in un angolo del mio cuore. Lui è l'uomo che ha sempre sostenuto la mia avventura carnevalesca, a cui mi rivolgevo ogni volta che avevo dei dubbi e che puntualmente mi chiamava se dai giornali apprendeva notizie sul carnevale che non gli erano molto chiare, oltre che a sentirci per commentare altri eventi pubblici e privati. L'ultima volta ci siamo visti nella sua casa ad ottobre e ho un bellissimo ricordo di quelle ultime ore passate con lui. Ciao Alberto.